Quinta posizione per la città di Pordenone nella classifica nazionale di Lega Ambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia. Il ventunesimo rapporto ecosistema urbano che Lega Ambiente realizza annualmente in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 Ore è stato presentato lunedì 27 ottobre a Torino. Presente all'incontro anche l'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. È un risultato significativo che ci riempie di soddisfazione sicuramente influenzato dalla dimensione a misura Duomo della nostra piccola città ma che gratifica anche l'impegno profuso dall'amministrazione comunale in questi anni per migliorare. Se l'ottantottesimo posto in classifica del 2002 è solo un lontano ricordo lo dobbiamo, i numerosi investimenti che sono stati fatti per ampliare la dotazione di verde pubblico, per installare i pannelli solari termici e fotovoltaici sugli edifici di proprietà del comune, per realizzare nuove piste ciclabili e soprattutto grazie alla collaborazione fondamentale dei cittadini per raggiungere il primato nella percentuale di raccolte differenziate che ormai ha raggiunto e superato l'80%. Le prossime sfide che abbiamo davanti sono la realizzazione del piano energetico, del piano regolatore comunale, del piano della mobilità sostenibile che ci aiuteranno ad individuare le nuove priorità e accogliere ulteriori opportunità di miglioramento. Fondamentali anche gli investimenti per aumentare la capacità di depurazione che resta il nostro tallone d'Achille, uno stanziamento recentemente deliberato nell'ambito dell'accordo di programma Stato-Regione di 2,6 milioni di euro dovrebbe consentirci il prossimo anno di procedere all'ampliamento del depuratore di via Burida.